Buon pomeriggio a tutti e grazie a Mario e l'organizzazione di TED per l'Ottigia di questo invito. Per me è un piacere, un onore soprattutto. Chiedo se è possibile di avere il minutaggio corretto. Quattro minuti non ce la faccio a fare la presentazione. Quindi ho lasciato un po' questo titolo perché non voglio svelarvi l'argomento fino al momento opportuno, però voglio darvi qualche suggerimento su quello che sarà un po' il fil rouge di questa breve presentazione. Nel cercare di mettere insieme aspetti personali con quello che è il tema della manifestazione, quindi contaminazioni, ho guardato un po' alla mia storia e quello che ho fatto negli ultimi anni. Soprattutto, come ha detto appunto Mario, sono ingegnere e quindi sono persona molto legata ai numeri, sono persona che guarda molto all'aspetto concreto, ai fatti, alle evidenze. Non sono uno scienziato come qualcuno, prima di me mi ha preceduto, però sicuramente sono abbastanza in linea con quel tipo di pensiero. Sono storiche le conversazioni con mia moglie di fronte a quando si è dovuto acquistare casa. Lei basava tutte quante le scelte legate alla pancia, io al miglior amico che ci può assessere per un ingegnere che è un file di Excel. Quindi per darvi un'idea un po' a questo sono io. Da questo punto di vista, quindi, dopo quasi oltre 18 anni nel mondo della tecnologia, penso di avervi dato un po' di background per spiegarvi perché credo in quello che adesso vado a raccontarvi e perché ritengo che effettivamente questo sia un elemento che distingue le aziende tecnologiche e le rende uniche. Dopo 18 anni, avendo lavorato prima in Microsoft e poi in Facebook, quello che ho osservato nel tempo è che ciò che leggiamo spesso sui media, quello che viene raccontato di queste aziende, ossia le loro competenze, la tecnologia, quelli che sono i prodotti che vanno a realizzare, sono il loro grosso asset. In realtà, per quello che ho vissuto, devo dirvi che c'è un aspetto che è totalmente imponderabile, intangibile nel modo in cui fanno quello che sono prodotti o tecnologie ed è qualcosa che accomuna un po' tutte le forze lavoro. Per questo motivo voglio parlarvi di cultura aziendale. La cultura aziendale potrebbe essere percepita come qualcosa di un po' noioso, un po' magari poco rappresentabile, poco discutibile, però vi posso garantire che è un elemento che in tutte le aziende tecnologiche, quindi dalla mia esperienza, ma si può applicare a tantissime altre, Google, Amazon, Twitter, tutte queste aziende sono veramente spinte da qualcosa che non è legato alla tecnologia, non è legato ai loro prodotti chiave. E nel cercare di raccontarvi questo voglio un po' farci vivere quello che è la cultura che altrettanto noi come italiani viviamo e renderci un po' consapevoli di quello che la cultura sostanzialmente porta ad essere. La cultura è certamente un insieme di tanti elementi, sicuramente apprendimento e di insegnamenti. Sicuramente non è qualcosa che leggiamo nei libri, ma è qualcosa che viviamo, è qualcosa che prendiamo dall'esperienza da quando siamo nati fino ai giorni che stiamo vivendo. Quindi in questo senso mi piace appunto, facendo un po' riferimento a qualcosa dei nostri giorni, fare, mostrare questa slide, mi ha messo cinque minuti a capire un po' il significato di questa slide, però volevo da tifoso juventino, non appassionato e non fanatico, sia chiaro, però mi piaceva questa slide perché dà un po' il carattere degli italiani, la creatività, il fatto di nel mondo anche tradizionale essere spiritosi, divertenti e altrettanto giocosi per certi versi. Questo è un po' il carattere dell'italiano, magari simile anche ad altre culture, ad altre nazioni, però certamente è un qualcosa che sul calcio per esempio ci distinguiamo in tutto il mondo, sulla passione per lo sport e su alcuni sport certamente non abbiamo confronti. Dall'altra parte però, circa un anno fa, guardando una trasmissione in televisione, ho sentito un passaggio che veramente mi ha colpito e che un po' rappresenta altrettanto, se pensiamo agli aspetti culturali, quello che invece è un freno. Abbiamo sentito prima come ci sono dei freni per l'Italia da un punto di vista economico, ma altrettanto ci sono delle leve sulle quali certamente l'Italia gioca forse in attacco. Ecco, voglio condividere con voi 40 secondi di un filmato di Giovanni Veronesi a otto e mezzo, che raccontano la sua esperienza e di come gli italiani sono percepiti all'estero, come comunque questo effettivamente l'aspetto culturale ci porta molto spesso a vedere tutto questo come un freno. Ad esempio, quella è una cosa onerica. E appunto, il timore è che il reddito di cittadinanza poi sarebbe dato tre volte alla stessa persona. Io sono andato a girare a Cuba e un militare del governo cubano mi ha detto che loro assegnano il wifi gratuitamente in alcune zone dell'Havana a caso. Io, essendo italiano, non ci ho creduto. Ho detto, mi dica la verità, ci sarà un inghippo sotto. E lui mi ha detto, no, vedi, lei è italiano e quindi lei è corrotto di testa proprio, perché noi invece lo diamo a caso. Random. Io non ci ho creduto ancora oggi, non ci credo. Perché Cuba gliel'hanno detto questo? Ecco, questo filmato un po' mi ha colpito perché appunto penso che molto spesso ci troviamo in situazioni nelle quali il nostro primo pensiero è un po' avere il sospetto, non credere nell'altro e comunque lo vedo nel confronto per esempio con altre nazioni, avendo la fortuna di poter lavorare in ambienti multinazionali, si osservano queste differenze. Ecco, volevo portare questo come esempio per far capire quello che è la potenza della cultura che noi abbiamo, della cultura di quelli che sono gli insegnamenti e delle esperienze che noi viviamo. Quello che ha raccontato Giovanni Veronesi è frutto non di quello che ha letto dei libri, ma quello che ha vissuto nel suo quotidiano, ha vissuto dalla sua infanzia fino ad oggi. Ecco, se pensate a tutti questi elementi e come ci portano a prendere certe decisioni, comprendete un po' quello che è la potenza di ciò che è il concetto di cultura. Bene, nelle aziende multinazionali credo che questo sia ben rappresentato e non a caso queste aziende sono molto focalizzate a fare in modo che ci sia una forte coesione su alcuni principi, su alcuni valori. È un qualche cosa, come dicevo prima, di intangibile, però certamente è un qualche cosa che aggrega e che crea allineamento all'interno di quella che è la missione aziendale, ma altrettanto quelli che sono alcuni dei valori. Qua voglio portare come esempi questa è la missione di Amazon. Quindi la cultura aziendale sostanzialmente, a mio giudizio, si unisce da un concetto di missione, quello che è un qualcosa di idealistico. Sia chiaro, questo è ciò che è stato definito da Jeff Bezos n anni fa, all'inizio dell'avventura che oggi sta avendo il successo che molti di voi conoscono. Altrettanto però, tutta questa, come vedete, questa è la pagina web di Amazon che rappresenta un po' la missione, ma altrettanto leadership principles e tutta una serie di altri elementi che caratterizzano la vita all'interno di Amazon. Questi sono i valori di Facebook, ossia quelli che sono i principi attraverso i quali Facebook cerca di operare ogni giorno. E attenzione, non si applica soltanto al mondo degli ingegneri, si pensa che magari questo possa essere applicato soltanto a delle figure professionali. Si applica un po' in tutto il mondo, anche in un ufficio come quello di Milano, piuttosto che di Roma, ossia tutta quanta la forza lavoro è allineata intorno a questi valori. E voglio raccontarvi tutto questo con qualche esempio applicato alle varie aziende. Questi sono appunto dei poster che sono all'interno del nostro ufficio. Quello che vedete a sinistra, peraltro, il concetto di cultura aziendale è un qualche cosa non di statico, evolve. Move fast and break things era un qualcosa che avevamo definito all'inizio, oggi è stato trasformato in move fast and build things, ossia cercare altrettanto non andare contro le regole e quindi cambiare, scardinare un po' quelli che sono paradigmi noti, ma cercare altrettanto di costruire un top a quello. Qua un paio di esempi in questo senso. Ripeto, sono esempi che arrivano dagli Stati Uniti, ma vi posso garantire che anche all'interno di una country come l'Italia questi sono elementi che caratterizzano il nostro quotidiano. Quando Facebook ha dovuto lanciare nel 2008 la sua versione localizzata, ossia era disponibile in inglese, ma doveva essere poi internazionalizzata, quindi resa disponibile in n-lingue, ai tempi, nel 2008, c'erano qualche centinaio di persone all'interno di Facebook come forza lavoro. E per poter localizzare, quindi per poter tradurre, scusate, un sito fatto da oltre 300 parole in n-lingue, seguendo principi tradizionali, ossia quello di prendere il sito e darlo a quello che si chiama team di localizzatori, ossia di persone che traducono fisicamente proprio quel sito, ha pensato a un modo diverso, proprio perché le risorse per fare quel tipo di lavoro non c'erano, non c'erano sufficienti risorse. Nel cercare di fare questo è veramente andata controcorrente, ha cercato di cambiare un po' i paradigmi. Cos'è stato fatto? Un team di quattro persone, di ingegneri in questo caso, ha pensato ad un'applicazione che offerta ai consumatori, quindi agli utenti, permettesse a loro di fornire suggerimenti su quelli che potevano essere le traduzioni e altrettanto fare un voting system, ossia permettere a ciascuna persona di dare un giudizio su tutto questo. Bene, quattro persone hanno permesso di tradurre un sito completamente, cosa che normalmente avviene con qualche decina di persone, è stato tradotto non soltanto in una lingua, ma in 70 lingue, rendendolo poi anche un po' divertente, perché c'era anche la lingua dei pirati, per esempio. Ma in questo senso, volevo farvi proprio l'esempio di 2008, quindi anni fa, questo è quello che è stato fatto per andare un po' controcorrente e cambiare le regole. Sono slogan, è vero, ma vi posso garantire che con N esempi trovate un po' tutto questo implementato proprio nel quotidiano. Amazon. Amazon è famoso per il tu pizza steam. Che cosa vuol dire tu pizza steam? È un qualche cosa che per muoversi velocemente viene un po' rappresentato con un team non deve essere più grande di un numero di persone che non mangiano più di due pizze. È un concetto un po' particolare, però vi dice quanto le persone devono essere snelle, quanti team devono essere snelli per muoversi. E questo è un po', noi lo rappresentiamo come move fast, qualcuno lo rappresenta con tu pizza steam, però il modo di operare sta veramente all'interno del quotidiano con alcuni principi cardine. Be open. Be open è un qualche cosa che in Facebook è stato implementato con i data center, però voglio portarvi un altro esempio di un'azienda che forse non è considerata tecnologica per quello che è l'accezione che oggi molto spesso si conosce, quindi aziende che lavorano su internet, ma lo rappresento con Tesla, che è un'azienda che opera nel mondo automotive, quindi produce auto, produce auto in un modo anche lì, e le vendi in un modo molto diverso rispetto al tradizionale, però il concetto di be open qua è molto ben rappresentato. Se partiamo dal presupposto che le aziende tradizionali hanno all'interno dei loro asset, cioè quello che è il valore dell'azienda, è una sorta di asset, quindi di competenze, di brevetti piuttosto che risorse, bene, all'interno di quello che è gli asset di un'azienda automotiva che produce aziende elettriche, i brevetti sull'immagazzinamento dell'elettricità è un asset importante per Tesla. Giugno 2014, Elon Musk ha sostanzialmente fatto un post con quello come titolo, All our patents belong to you, ossia tutto quello che è un asset che viene valorizzato all'interno anche di un mercato azionale, se volete, è stato reso completamente accessibile a tutti, è stato messo a disposizione di una comunità. Con attenzione, queste regole, viene messo a disposizione di chi poi a sua volta nel prendere quel valore contribuisce a crearne altro valore, quindi si cerca di sviluppare quel concetto di apertura costruendo comunità che a loro volta creano valore. Quindi l'apertura be open, che è uno slogan se volete guardarlo da un poster, viene poi implementato all'interno di tanti progetti in una modalità che permette a tutte queste aziende di scalare. E ho preso appunto un esempio di un'azienda che sì, è innovativa, è forse classificata tra le aziende più innovative, ma certamente non ha a che fare soltanto con un mondo tecnologico. Questo è un po' il concetto di be open. L'altro aspetto, ed è l'ultimo col quale concludo la mia presentazione, è un po' legato al concetto di fallimento, ed è un po' comune a tutte queste aziende. Se siamo in Italia, la parola fallimento è un qualcosa che si porta presso un elemento prevalentemente negativo, è un qualcosa che viene attribuito e viene appiccicato alle persone, ed è qualcosa che peraltro non ti scrolli più di dosso, quando ti viene assegnato un concetto di fallimento a te come persona, difficilmente poi ti viene rimosso, o viene dimenticato. In queste aziende il concetto di fallimento è associato al concetto invece di apprendimento. Chiaramente fallire due volte, fallire per due volte su uno stesso problema, è un problema ovviamente, però fallire è la ragione per la quale si crea innovazione, si abilitano le persone a prendersi dei rischi, se uno si prende dei rischi e sa che rischiando può fallire, e il fallimento accettato crea innovazione. In tutto questo voglio portarvi un esempio di un filmato, voglio portarvi un esempio con un filmato di quello che è stata la creazione di un prodotto che oggi, spero molti di voi utilizzano, che sono i video all'interno di Facebook, Facebook ha lanciato i video anni fa, ma attraverso un team fatto da due persone in un modello totalmente non strutturato e con elevata probabilità di fallimento. Chiaramente ai tempi, era anche lì, credo l'anno 2008, il prodotto era ancora così piccolo che un fallimento non avrebbe avuto un impatto elevato, però vi garantisco che non è il 2008, anche nel 2018 questo tipo di principi esistono ancora. Voglio farvi vedere questo video appunto fatto di, che racconta come due ragazzi hanno realizzato un prodotto che è il prodotto video che oggi, chiaramente, molti di voi, spero, utilizzano all'interno dei propri cellulari. As we were watching our engineering culture take shape, we found that some of the best products that we've ever shipped arose from just like a single night's effort. One of the longest standing traditions at Facebook is hackathon. Hackathons are all night coding events, totally free time to build whatever you like, so everybody sort of pulls together into the little small teams. It's cool to be in a very mixed environment, not just like super academic types, but also the more hacker type. One product that I worked on was video, but I remember thinking to myself, having just a video camera built into our laptops, wouldn't it be great if you could just like record a video and send it to someone, your mother for Mother's Day, or to your girlfriend just to wish her a good night, not blasting a video across the entire internet. We were just like talking, getting all excited about video, and we were like, hey Zuck, check this out, what do you think about video? And he was like, oh, this seems like kind of good. We sat down and we churned through this code for an entire night. So Leo built like, you know, the playback interface, and I built the initial transcoder. And the following morning, we were just so close. Everything was like, all the parts were already in place. Once we got it working, everybody piled into the room, and we're just like freaking out. It's like Apollo 13 landing. The only thing that's missing is like the guys in the NASA room smoking profusely. Forty hours later, we basically had a complete product. Hey Putnam, just wanted to congratulate you. You've done a lot in the past day. I hope you're getting a lot of rest. After this ridiculous 40-hour sprint, we woke up the next day and the dashboard is just filled with, you know, videos from people that were like, holy cow, this actually works. Can't believe you guys did this in just like two days. The thing that kind of like kept me going was the knowledge that like, what's on one screen will one day be on 250 million. It's just like run away in a way that I never expected it to. As soon as we launched it, you know, someone in Egypt was already recording herself. When you're sending each other video messages on Facebook, you know it's just your friend watching. It's a lot more personal. It's a lot more real. It's really fun to just go back and see videos of me and my fiance when we first started dating and say like, wow, look at how much we've grown up. Holy cow, like this is what we look like. This is where we were in that particular time in our lives. There's no way that video would have ever shipped if we had, you know, not actually just gone ahead and built it. Last month, we served like a billion video views. That was kind of mind-boggling to me. I was like, are you sure you didn't like add a zero to the end of that? It's just testament to how ideas can go from just like two engineers to a quarter billion people. At this point, it's really just me dealing with like half a million videos a day. I mean, look at me. I'm 22. I started here when I was 19. How many opportunities in your life do you get to change the way that the world communicates? How many chances do you get to build a communications platform? One or zero? You don't get two tries at this. And there is no way that I would kid myself into thinking that I'll work or I'll have, I'll ever have this level of reach in anything else that I do in my lifetime. So that's both staggering and exhilarating and humbling and just like insanely good. Bene, questo è un filmato appunto di diversi anni fa che racconta appunto di come è stato sviluppato la parte video. Questi due ragazzi sono sostanzialmente coloro che l'hanno fatto. Accettare il fallimento significa assegnare ai ragazzi di 22 anni, forse il secondo un po' più grande, però meno di 30 anni la possibilità di sviluppare un prodotto che ha, diciamo, giocato certamente un ruolo importante nelle sorti di Facebook e nel suo sviluppo. Quindi ho terminato, volevo raccontarvi appunto questo, ho voluto fare quell'introduzione per dirvi come un ingegnere che guarda sempre i numeri ritiene che l'elemento vincente per aziende tecnologiche sostanzialmente sia qualcosa di intangibile e se andiamo a guardare oggi i grossi asset per Facebook sono certamente le persone, la tecnologia, i dati, però tutti questi non sarebbero nulla se non aggregati e se non coesi all'interno di una cultura aziendale che certamente mette insieme tutto questo. Senza la cultura aziendale credo che tutte queste aziende tecnologiche non siano dove sono e non portino quei risultati che oggi riescono a mostrare per il consumatore e anche per tutta una serie di altri soggetti che vivono sul mercato. Con questo vi ringrazio. Applausi